Buongiorno a tutti, oggi preparo una torta con fichi e mandorle, semplice e veloce. Facciamo questa ricetta perché siamo nel periodo dei fichi. Mi occorre 5 uova, mezzo chilo di farina, un po' di estratto di vaniglia, 100 ml di olio, 150 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale, 125 g di yogurt magro, 30 g di mandorle affettate, 200 g di fichi sbucciate e fatte a fette. Allora iniziamo la preparazione. Nelle uova metto lo zucchero e le monto un po'. Montate le uova per un minuto, aggiungo l'olio, come dico sempre io metto l'olio d'oliva, voi potete mettere l'olio che preferite, metto il yogurt e monto un altro poco. A questo punto inizio a mettere la farina, poco alla volta, setacciandola. Setaccio anche il lievito. Metto la vaniglia e il pizzico di sale e finisco di mischiare. Pronto l'impasto, lo verso nella teglia di 32 cm di diametro, già imburrata. Distribuisco bene. Distribuito bene, metti i fichi sopra. Distribuiteli a piacere. A questo punto metto le mandorle. La vado ad infornare in forno caldo e statico a 180 per 30 minuti. Una volta cotta, la taglio. Ed eccola pronta da gustare. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.